Ciao amici di Videoripetizioni, ciao YouTube. Molti, moltissimi di voi sulla videoripetizione riguardo Google Chromecast, cioè trasforma la tua TV in Smart TV con Internet, mi hanno chiesto cos'è possibile fare veramente con questo Chromecast, ovvero posso solo vedere YouTube sulla mia televisione? Come funziona? Che cosa posso fare con Google Chromecast veramente? Ovviamente, giustamente, le domande sono queste, proprio perché la maggior parte di voi, prima di comprarla, acquistarla, vogliono documentarsi. Bene, in questa videoripetizione rispondo a tutti voi, facendovi vedere le app, le applicazioni compatibili con il tuo Google Chromecast. Eccola qua, ti metterò il link in descrizione alla videoripetizione. Se non ti metto il link, scrivimi un commento perché mi sono scordato. Quindi, come vedi, non solo è compatibile YouTube per Google Chromecast, ma anche tutte le applicazioni di Google Play, compresi i film, a pagamento in questo caso, Infinity, ovvero... Il servizio a pagamento e costa anche poco, tra l'altro, online, visualizzabile da tablet, smartphone, Smart TV e quindi anche dal tuo tablet lo puoi pure trasmettere sul tuo Google Chromecast, Google Plus e Google Chrome. E, in più, queste sono le 5 applicazioni in primo piano. Inoltre, come vedi, scopri altre app ottimizzate per Google Cast. Che cos'è questo Google Cast? Ti ho pubblicato una videoripetizione precedente che ti consente di installare questa applicazione sul tuo Google Chrome. Qua, vedi, è questa qua, Google Cast. E se ci clicchi, ad ora non ho acceso il Google Chromecast, ma se ci clicchi al tuo Google Chromecast e nei paraggi, puoi trasmettere tutto quello che tu vedi sul tuo browser, ovvero in questo caso Google Chrome, come browser, sulla tua televisione via Google Chromecast. E, inoltre, oltre a queste 5 applicazioni, compreso anche Google Cast, queste sono applicazioni in primo piano compatibili con il tuo Google Chromecast, quindi un po' tutte, come vedi, YouTube, Google Play Movies, Music, Twitch. Se ci clicchi ti dicono pure che cosa è. Così, se vuoi curiosare, ti metto il link in descrizione alla videoripetizione. Vedete, esempio, Twitch guardi istantaneamente i tuoi giochi preferiti e chatti con gli altri giocatori in tempo reale. Lo puoi vedere sulla tua televisione. Infinity, che ha il servizio streaming con più di 5.000 film, serie TV, fiction e cartoni animati. Beh, con due righe ha spiegato quello che io ho detto in 10.000 parole. Google Plus, vedi, puoi vedere immagini, video e molto altro, compresi anche video e fotografie sulla tua televisione, del tuo Google Plus. Vevo, Red Bull TV, Real Player Cloud, Beyond Pod, ovvero puoi ascoltarti anche centinaia di podcast. Puoi guardarti anche la MLB TV Premium, in HD, in alta definizione, dovrebbe essere la Liga Americana di Baseball. Crunchyroll Diesel Chrome, perfetto. Trasmetti una scheda da Chrome per guardare, ascoltare musica, video, foto e molto altro ancora sulla tua TV, compresi anche i film in streaming, gratuito o a pagamento. E poi parla proprio dell'estensione Cast, Google Cast, che è questa, ti faccio un repilogo della videoripetizione precedente. E puoi trasmetterti dal tuo portatile o dal tuo dispositivo Android mobile sulla tua televisione con Google Chromecast. Eccola qua, Google Cast. Se clicchi, te lo aggiungi. Ti metto il link in descrizione. Quindi come vedi tutti i contenuti del tuo cellulare, del tuo smartphone o tablet Android, li puoi vedere direttamente sul tuo televisore. Questo è il primo piano. In più ci sono anche delle altre novità. Quindi come vedi qua su questa linguetta, su questa scheda, vedi le ultime novità compatibili con Google Chromecast. E ce ne sono pure altre. Altre che magari non hai mai sentito e che però ti potrebbero interessare. Quindi dacci un'occhiata perché sono veramente tante e la maggior parte non ne le conosco. Addirittura anche il karaoke. Volendo, con questa lente di ingrandimento, ti puoi cercare anche un'app compatibile col tuo Google Chromecast. Che dire, se vai sul videoripetizioni.com, qua lo trovi con un piccolo sconto, invece che 35€ a 34,64€, cliccando qua da Amazon con la spedizione inclusa. E fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi di queste applicazioni compatibili col Google Chromecast. E se ho soddisfatto tutte le tue richieste. Perché in tantissimi mi avete chiesto sempre la stessa cosa. Benissimo. Se ti va, ti invito ad andare sul portale web videoripetizioni.com, cliccare su login. E se non hai ancora un nome utente o una password, clicchi qua, guarda, in basso. Non possiedi un account. Sei libero di registrarti mettendo il tuo nome, il tuo nome utente e la tua password che utilizzerai. Questi due campi, nome utente e password, per effettuare il login. A questo punto, una volta loggato sul portale web videoripetizioni, potrai accedere all'area privata. E per ora in fase beta è attiva la funzionalità di Upload Videoripetizione. Ovvero puoi partecipare al progetto di condividere la tua conoscenza con tutti gratuitamente. Perché ognuno di noi ha una o più passioni. Pensa che cosa meravigliosa sarebbe condividere le tue passioni con tutti. Qual è il vantaggio? Che condividendolo sul portale web videoripetizioni.com posso dare più visibilità ai tuoi contenuti, al tuo canale, alla tua attività con non più di 8000 iscritti. e quasi un milione di visualizzazioni, ti metto il link al tuo canale, al tuo sito web, ti posso dare più visibilità. E allo stesso tempo condividi la tua conoscenza con tutti in maniera gratuita. Altrimenti, se non ti va di effettuare login e registrarti al portale, puoi semplicemente scrivere il tuo nome qua, la tua email, e cliccare iscriviti subito. Così riceverai 2, massimo 3 email al mese di aggiornamenti, la newsletter di videoripetizioni ufficiale, che ti consentirà di non rischiare di perderti gli ultimi aggiornamenti. Bene, che dire, ti ringrazio, ti invito ad iscriverti al portale, alla newsletter, a YouTube, se ti va. Ci trovi dappertutto come videoripetizioni su Google+, Facebook, Twitter e chi più ne ha più ne metta. Fammi sapere che cosa ne pensi di queste app compatibili con Google Chromecast. Ti auguro un'ottima giornata o serata e ti mando un abbraccio. Ciao! 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 Grazie a tutti.